ciao ragazzi benvenuti su penna ruffata il farmer per gli scrittori che amano la critica costruttiva ciao a tutti ragazzi oggi davide ci parla di show don't tell attenzione attenzione dopo ben 19 puntata roba grossissima noi non ci siamo mai sentiti pronti anche solo per introdurre l'argomento oggi lo facciamo perché ci sentiamo un po più pronti rispetto a prima ma soprattutto confidiamo nella vostra pazienza davide si innestra su questo percorso veramente accidentato so che mi massacredete però io sono pronto a cogliere la sfida la consapevolezza luca nesler ci porta i suoi spuntini narrativi letteranzi che ci piacciono ormai tantissimo e infine io vi porterò davide lungo una rabbia semplice quando la serialità non formalmente dichiarata potrebbe diventare un problema state con noi interessante interessante bene ragazzi come state a proposito prima di partire col bello a essere stanchi tra l'altro vi annunciamo con grande soddisfazione che sia io che luca abbiamo finito rispettivamente la terza stesura del romanzo e la quarta stesura per luca corretto la quarta la quarta sì 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 io ho finito tutto l'ho già inviato a due case editrici che non mi risponderanno l'importante è crederci ma tu sei nesler quello che ci prende sempre in giro eccetera eccetera quello è un altro che mi sta pure antipatico è un amonimo adesso registro senza occhiali così quando mando in giro cose con gli occhiali dicono ma non può essere lui quello porta gli occhiali tra l'altro nelle ultime settimane Livio Gambarini ha fatto uscire un video didattico gratuito dove spiega in cosa consistono queste stesure questo metodo che noi applichiamo sia io che luca potrebbe essere interessante per voi ve lo mettiamo in descrizione e tra l'altro durante la stesura sia io che luca ci siamo resi conto che abbiamo comunque al di là della metodica insegnata degli approcci differenti di lavorare sulla cosa quindi potrebbe diventare un corso nesler lauro come fare le stesure diciamo che ognuno c'ha la sua hai festeggiato la fine della stesura Andrea io sono andato a cena fuori con tutta la famiglia ah che spettacolo no io sono andato in piscina perché ormai dovete sapere che mi sono abbonato ho preso lo stagionale alla piscina perché mi sono detto ce l'ho qua davanti hai visto mai che comunque non sto lì neanche a contare gli ingressi quando devo andare vado anche solo per un'oretta bravo salti dalla finestra il problema è che le mie figlie ora ogni giorno mi chiedono di andare in piscina non l'avevi calcolato non l'avevo calcolato cioè vi faccio vedere anche la vedete la bronzatura questa è la bronzatura da orologio di ragazze possiamo uscire per favore hai ascoltato quando avrò finito il romanzo quando sarò pubblicato se sarò un pochettino famoso ci sarà qualche firma copia e venite a trovarmi direttamente in piscina non so perché la tavoletta con cui si insegna i bambini a nuotare e firmerai anche io sono andato in piscina tu sei tutto rasato fai il nuotatore con quella che fa caldo qui a Bolzano fa caldo sbattiamo un mito Bolzano è caldissima cioè ci ricordiamo che è un po' una caldera tutto il sud Italia che ci invidia per la neve la freschezza noi in giugno la neve non ce l'abbiamo ma anche in maggio quando vedi il meteo vai a vedere le temperature dici sempre ma perché a Bolzano ci deve essere un errore perché c'è scritto 45 gradi a Bolzano non capisco no non c'è nessun errore infatti è una delle città più calde d'Italia insomma poi parlando di feedback delle puntate precedenti ricordiamoci che la puntata scorsa quella con Maurizio Ferrero ha avuto un sacco di successo e tra l'altro il mio argomento è direttamente legato a un suo pensiero riguardo alla serialità di certi volumi di certe storie quindi la progressione orizzontale al di là di una progressione verticale bravissimo Laura io mi collego a fagiolo perché adesso mi credevo a Luca fagiolo non a Luca fagiolo a fagiolo capita fagiolo non mi collega a fagiolo hai diventato fagiolo dove è? scato un po' delle cose sono un po' confuso questo è un fagiolo burlotto esatto è proprio lui il fagiolo burlotto l'onnipresente effettivamente un nostro più accanito fan tale Matteo Mantuani che è sempre puntuale nei suoi commenti fa sempre interventi interessanti è uno degli ultimi appunti è stato a seguito dell'ultimo appuntato e qui lui ci ricorda che effettivamente Martin è probabile che si sia fondamentalmente rotto le palle di scrivere questa saga e tra l'altro non sarebbe la prima volta citava i casi di Conan Doyle con il suo Sherlock Holmes e anche altri cicli di Asimov esatto è vero perché un lettore rimane legato a quello che gli ha dato notorietà volente o nolente e quando è nolente gli girano le palle giusto e poi succedono casi come misery non deve morire quindi stai attento Martin ma secondo me lui ci va molto vicino ti spezzeranno le gambe ciccione di merda scrivi non io non lo direi ma io sono i suoi fan che lo dico no ma tu puoi dirlo tu puoi dirlo perché fai parte della categoria quindi non è un problema non è offensivo non solo dei ciccioni ma anche del di merda quindi Luca dimagrisci perché per lo meno non ti possono dire che sei un ciccione di merda lo farò per paura dei bulletti come me sto seguendo la serie storica di Nesler però vedo che lui continua a bere birra ogni puntata io dico non è che magari poi ci lascia le penne prima che finisce di scrivere smetti di bere magari sarei davvero onorato che qualcuno volesse fai solo ciclette no ma la mia non è una serie è autoconclusivo beh io vorrei dire posso morire in pace mangiare broccoli io farò io vorrei dire ai fan che io sto cercando di stimolare Nesler a fare un po' di uscite montane ma lui no lui sta lì ma perché mi stai sulle palle tu ci vado da solo lui c'è la sua poltrona di molle rotte e sta lì a bersicci la sua birra e a bestemmiare contro gli scrittori maledetti non è vero mamma non bestemmio mai no contro gli scrittori maledetti non ah ok porco asimov così bene ragazzi allora io direi che abbiamo teleciversato abbastanza possiamo cominciare stasera don't tell si dice show don't tell o show not tell innanzitutto beh qualcuno dice anche show not tell è una forma contratta che fa capire ancora di più minimalista in cosa consiste questo show don't tell show not tell a napoli dice show not tell in tutto il resto del mondo e quando la guida turistica ti fa vedere che sei arrivato dove dovrai dormire stavate dice show not tell questa se l'è preparata due settimane fa e non vedeva l'ora di spararla allora entriamo con i piedi di piomo in questo argomento perché è un argomento vastissimo ne potrebbe parlare ora e ora e oggi ne parleremo ore e ore la gente chiude il video preparatevi no non è vero faremo solo proprio veramente un accenno spero significativo e lo farei io introducendo un esempio molto personale perché insomma io pratico arti marziali quindi in particolare arti marziali giapponesi niente bomboniere oggi niente bomboniere posso ricordare che ho scoperto l'estate scorsa che abbiamo praticato tutti e tre la stessa arte marziale ci sarà un motivo coincidenze no noi non crediamo alle coincidenze sì aikido è l'aikido non è un segreto insomma no io mi vergogno ma comunque questo aspetto nella didattica delle arti marziali giapponesi quindi maestri giapponesi non parlano mostrano la tecnica è un aspetto comune a tutte le arti marziali giapponesi quindi non solo l'aikido è proprio una forma di didattica quella di mostrare la tecnica senza spiegarla e loro sono convinti che l'allievo in questo modo imitando il maestro esperisca la tecnica e quindi la faccia propria in maniera più efficace la show don't tell è qualcosa di simile a mostrare gli oggetti non i concetti e significa quindi fare esperire delle sensazioni con i cinque sensi e come lo fai appunto mostrando qualcosa che tutti quanti noi quando leggiamo abbiamo in qualche modo chi più chi meno esperito quindi non dico bibita ma dico pepsi cola perché probabilmente la pepsi cola o la coca cola tutti noi l'abbiamo una volta nella vita assaporata questo perché appunto l'obiettivo è quello di dare una sensazione un'emozione cosa che nel contato non avviene perché è raccontato in qualche modo è un resoconto di viaggio per interposta persona quindi l'autore l'autore ci racconta qualcosa di un avvenimento capite bene che l'effetto è diverso per quelli che magari non masticano così bene l'inglese show mostrare non raccontare giusto la traduzione dire a volte ce ne dimentichiamo ma non è così scontato addirittura si potrebbe dire vivi e non mostrare nel senso che le percezioni sensoriali se usate bene in modo giusto in maniera efficace e vivida addirittura fanno provare nel lettore alcune sensazioni e diventa quasi che il lettore vive con le sensazioni e non solo le vede sulla pagina comunque quello che dicevi tu davide va ben oltre il solito discorso che si sente sempre fare sullo show not tell che è show not tell vedi che è la classica battaglia fu una battaglia furibonda invece ti dicono no non devi scrivere ci fu una grande battaglia ma devi scrivere che le spade cozzarono i cavalieri corsero giù per il diruppo cozzarono anche loro tutti che cozzano una congerì di cavalieri una congerì di cozzaglie esatto quindi voglio dire va ben oltre questa cosa qua anche dire i cavalieri scesero giù dalla collina e cozzarono contro i fanti avversari non è tanto mostrato nel senso che si può mostrare ancora di più si può entrare proprio nel personaggio che vede le cose che le esperisce dal suo punto di vista e far vedere mostrare quindi proprio quello che lui percepisce in questo modo diventa un mostrato molto molto vivido qual è l'esperienza per il lettore in questo caso? ah la chiedi proprio che tu volessi dire qualcosa anche tu? invece vuoi solo fare domande? no oggi fai l'intervistatore no si beh l'esperienza è proprio quella di essere emotivamente coinvolto dalla scena vedere momento per momento infatti un'altra delle regole dello show not to tell l'ho detto apposta nella forma contrata per rimanere fedele a me stesso è quella del rimanere focalizzati fissi sulla sincronia cioè ic nunc qui e ora adesso esatto bisogna descrivere esattamente quello che avviene nel momento lo dico perché negli prossimi spuntini vi farò vedere quando andiamo a scuola iniziamo a scrivere o leggiamo un sacco di libri sono parole della lingua italiana che non fanno nulla di male ma in realtà violano questa regola e quindi depotenziano il testo certo c'è sempre questa grossa diatriba grosso modo il narrare quindi il tell è molto più facile molto più sbrigativo e in certi casi magari potrebbe anche essere preferito quando ci sono delle azioni che a star lì a sviluppare a srotolare la serie degli eventi potrebbe essere oneroso ricordiamoci ad esempio l'astronauta di mesmer che si sveglia per fare il bisognino mangiare il panino oltre al fatto che si poteva proprio togliere la scena quella è la soluzione poteva essere reso in un modo molto veloce in te va bene diciamo un arrivò sera o un arrivò il mattino potrebbe evitare un sacco di pagine di minchiate ma la soluzione migliore a quel punto è una bella cesura e si va avanti la cosa invece che avevamo detto un po' di tempo fa e che sicuramente faremo era una puntata dove vi porteremo dimostrazione del fatto che un mostrato usato male è ancora peggio forse di un raccontato usato bene giusto? esatto e mi dai proprio l'assist per introdurre il termine diciamo della mia filippica perché io ho maniera del tutto discrezionale lo dico qui bravo bravo ma noi siamo sempre discrezionali cioè diciamo arbitrari discrezionali sfacciati ho individuato questa volta è frutto della mia immaginazione quindi non è frutto di google proprio ho elaborato un pensiero strano ma ho elaborato il mio pensiero a bella sciolta a bella sciolta proprio ho individuato due categorie di problemi un primo che riguarda appunto il mostrato in particolare la differenza tra concetto e oggetto uno è il cosiddetto cattivo mostrato cioè utilizzare al posto degli oggetti quindi la loro fisicità i concetti quindi si utilizzi un termine generico per come dicevo prima nell'esempio della psicola e questa cosa appunto è un problema perché se è leggibile il testo d'altro caso non ti lascia nulla l'altro problema all'opposto è l'eccesso di mostrato che ritengo perfino peggio di un cattivo mostrato in questo caso si tende a descrivere minuziosamente ogni dettaglio senza fare una selezione a monte di quelli che sono i dettagli significativi questo ci porterebbe lontano perché bisognerebbe parlare di punto di vista narrativo ora non mi voglio dilungare però la questione qual è per come funziona la nostra memoria abbondare in dettagli fisici rallenta di molto la lettura questo è dimostrato scientificamente cioè dovendo far fede alla nostra esperienza su quanto abbiamo esperito descrivere oggetti presenti nel testo per il cervello è molto faticoso e quindi di conseguenza anche per la lettura è una cosa un po sottile quindi bisognerebbe trovare un equilibrio tra il concetto e l'oggetto sembra facile ma non lo è affatto perché effettivamente poi non si è più efficaci il famoso metto la mano sulla maniglia, abbasso la maniglia, tiro la porta si aprono un sacco di maniglie, si aprono finestre era saltata fuori questa cosa qua mentre ci correggevamo a un certo punto io sono saltato su dicendo oh ragazzi ma qua c'è un sacco di gente che guarda il protagonista e il protagonista che apre un sacco di porte e da quando l'ho fatto notare in effetti abbiamo cominciato tutti quanti a e ce ne sono un sacco in effetti perché durante la nostra vita quotidiana facciamo un sacco di gesti che sono molto ripetitivi che però non entrano nella nostra area percettiva entriamo usciamo dalle stanze guardiamo le cose, le cose guardano noi e se tendi a mostrare tutto diventa troppo, diventa ridicolo la faremo questa puntata tranquilli bene allora Davide ci sei piaciuto hai tirato fuori molto del tuo trovo che tu sia molto più virile con la testa così rasata tra l'altro l'ho fatto apposta per le mie fans questa cosa sul mostrato però mi auguro che ci siano almeno una c'è, sono io sei la più grande di tutte è la più grossa però io a dire il vero ho visto la versione femminile di Lauro e mi sarebbe piaciuto se anche Lauro mi avesse avuto se fosse stata la mia fans quella foto di Lauro con la prima poi la metteremo quella è una chicca voglio diventare tutti più amici di Lauro un giorno ci siamo divertiti a usare face up e questa che vedete in sovraimpressione è la mia versione da donna stavo per dire dobbiamo metterla in sovraimpressione me lo dai un bacino Laura la prossima volta che ci vediamo io chiudo gli occhi la mia versione non me la faccio vedere perché è veramente brutto cioè io già così non è brutto ecco la di sovraimpressione nooo allora a questa punta facciamo vedere quella di Luca va bene io niente del contrario io sono una ragazza dalla mentalità aperta la più brutta sono io eh non so come mai la troppo uomo ragazzi per l'occasione di una puntata così seria io ho portato dei spunti narrativi quasi didattici se mi permettete vado a enungiarveli allora è un po' mostrato ascoltate il mostrato annusandola alla guisa di un segugio Laura si intrufolò in un dedalo di vie che serpeggiavano a sud ovest finché non iniziò a percepire il tanfo di sangue secco delle beccherie e quello dell'allume usato dai conciatori fu così che l'olfatto con largo anticipo rispetto agli altri sensi l'avvertì che era ormai prossimo alla zona di Leol sede del più grande mercato di Parigi che bel tellonazzo proprio allora partiamo bene con il fatto che è questo Laura che sta annusando no alla guisa di un segugio vabbè è uno storico quindi va bene così Laura sta annusando e c'è un dedalo di vie che serpeggiano e dici va bene ha fatto un riassuntino ma ci sta perché non puoi descrivere tutto a sud ovest ecco a sud ovest che è un'indicazione secondo me del tutto superflua perché al lettore è completamente estetica al lettore non serve a niente sapere che a sud ovest non se lo figura non lo immagina non capisce a sud ovest si disorienta a sud ovest vabbè se avesse messo un sole che tramontava in quella direzione allora uno capiva che era beh si figurava il tramonto per esempio no e capiva che potrebbe essere ma non è significativo in quel caso lì quindi non e poi parte con finché non iniziò a percepire il tanfo perché finché? perché non serve a niente basta che dica iniziò a percepire il tanfo di sangue secco e capì di essere lì e invece qua dice che la prende finché non inizia a percepire che significa che smette di prenderla no? e in più ci mette questo raccontato dove l'autore ti racconta lo fa finché e esci dall'area percettiva per uscire e fartelo raccontare dall'autore sempre il discorso dell'anniscente esterno fu così fu così è proprio l'inizio di un tel da favola proprio no? da fiabesco che l'olfatto con largo anticipo rispetto agli altri sensi è proprio l'anniscente più terribile che esce dal racconto e spiega al lettore che è stato così che l'olfatto prima degli altri sensi ha avvisato il personaggio capito? siamo proprio fuori e anche gli altri sensi ha avvisato un po' tutti ha avvisato anche gli altri sensi esatto che ormai era prossimo alla zona di Leol e adesso parte l'infodamp più brutto sede del più grande mercato di Parigi sembra sai di sentire un narratore fu così sede del più grande mercato di Parigi un'etichetta turistica messa lì per il lettore quindi avete visto quante cose ogni tanto sito i ttx sto giocando con una monetira provo a smettere no prego continua pure secondo il foro alla loro destra cominciava a riempirsi di gente ma nessuno notava Davide c'è scritto sessuno ragazzi l'ho notato anche io oggi e anche Dostra ha scritto anche Dostra dove Dostra? prima il foro alla loro Dostra cominciava a riempirsi di gente ma sessuno notava Davide perché si era tirato la toga sul capo e non era facile distinguere nel volto il foro alla loro destra cominciava a riempirsi di gente è un potel nel senso che è un riassunto del fatto che questo personaggio vede la gente che entra e vabbè vede la gente morta vede la gente morta esatto ma nessuno notava Davide e questo esce per parlarci degli altri personaggi perché e tra l'altro ci spiega perché perché lui si era tirato la toga sul capo e non era facile distinguere nel volto questo è proprio l'autore che te lo racconta quindi non è mostrato è proprio raccontato e spiegato l'ultimo didattico vai allora qua lui dice una roba no? dice chi è con me? fa un discorso no? e l'autore ci racconta del pubblico nessuno si mosse alcuni perché pensavano eccetera eccetera altri perché temevano che eccetera eccetera altri ancora perché pensavano che eccetera eccetera a questi pareva preferibile eccetera eccetera cioè io non vi ho riportato tutto ma voglio dire qua l'autore salta tra i gruppi e ci spiega le loro motivazioni e alla fine ci spiega anche che cosa pensano come fai ad essere coinvolto da una roba del genere questo è proprio capite che adesso questo l'ho messo perché per dire è davvero facile scrivere così tu puoi descrivere quello che vuoi quando vuoi di qualunque cosa in scena qual è la difficoltà qual è la difficoltà qual è la difficoltà di scegliere le scene di scegliere cosa di scrivere come scriverlo nessuna lo scrivi e via ma lo ripetiamo la problematica non è il fatto che sia facile o difficile perché se una cosa è facile ed è efficace perfetto vai per la strada semplice il problema è che è facile ma non è così efficace efficace non è così buono no? una scena così perde completamente il pathos se lui avesse mostrato la gente alcuni che si guardavano alcuni tre si guardano così come per dirsi capito qualcosa esatto altri besti si guardano ti posso inserire nel corso nel mio corso online dimostrato i tuoi esempi di Lauro mi piacciono sono efficaci no ma voi per esempio uno guardava in alto come l'avreste risolta una scena del genere voi io avrei mostrato il video di Lauro avrei cancellato tutto via via tutto così secondo me si poteva risolvere se questa scena è necessaria con delle battute di dialogo fai dei capi di gruppo che litigano tra loro dicendo quello che pensano ma chi è questo? ma perché voi pensate che? e gli altri dicono sì ma noi invece temiamo che e via così insieme in coro la voce del gruppo 3 arrivò forte voi che ci state seguendo se avete delle soluzioni da proporre prego scrivetele pure per sotto e leggiamo cosa potevano dire questi conti tanto voi non avete il coraggio di farlo oh ma sapete che ci sono un sacco di persone che adesso sto sentendo ogni tanto di scrittori amici così eccetera e magari in contatto per altre cose dico ciao ascolta ma mi sapresti dare un consiglio su questa cosa mi diresti come ti sei trovato in quella situazione e mi dicono non è che poi lo dici appena rubate non voglio più parlare con me ecco i tuoi 30 denari neser ciao Eleonora quando hai dei contenuti non so se essere felice o se essere scontente di questa cosa perché veramente vuol dire che la gente è terrorizzata mi ha fatto un sacco di dire no che poi però no no io non dico niente di quello che mi dite a viso via e tu per tu di Laure e Davide non fidatevi mai ma di me potete fidarvi sempre allora invece adesso arriviamo alla mia amica numero uno no praticamente c'era vi ricordate l'astronauta con la gamba rotta tagliata eccetera no? caspita adesso si passa a un altro personaggio che era quello che cavalcava che si affiancavano con le guardie no? ah si si già l'altra volta avevamo nominato gli uomini felini che ti lasciavano lì esatto a morire a morire di tedio ma io mi annoio qui sdraiato muori di noia praticamente loro fuggono da questi qua no? e c'è questo personaggio dice solo di quello che vuoi replicò la guardia il suo viso rigido e ostinato era molto espressivo grazie questo è un grande esempio dimostrato ragazzi eh la guardia replicò il suo viso rigido e ostinato era molto espressivo dovete immaginare un viso rigido un vis... un visido madonna non so più parlare dovete immaginare un viso rigido e ostinato e immaginarlo molto espressivo grande esempio dimostrato bello bello ultimo spuntino e poi vi lascio a lauro una spada dal nulla un invisibile artiglio d'acciaio per tagliare la gola di un essere vivo e che respira allora ragazzi voi dovete capire che questa qua in una frase ne sbaglia cioè fa un tripuglio una spada dal nulla ok? compare una spada un invisibile artiglio d'acciaio aspetta hai detto che è una spada come fai a dire che è invisibile? e no ma intendevo dire che è un invisibile artiglio d'acciaio come fai a dire che è d'acciaio se non lo vedi? no no ma ti dico cosa serve per tagliare la gola di un essere vivo e che respirava cioè se tu te le tiri in fiato non ti fa nulla hai capito? guarda che tu non è beh che sei ignorante ci sono alcuni microorganismi vero che non respirano pensa solo che ci sono i virus che non vivono però vivono e si attaccano alle cellule per riprodursi cioè c'è qualcosa se fosse che ne so un terdigrado capito? ti immagini questa spada uccide tutti tranne i terdigradi cosa sono? sono piccoli così chi se ne frega ahahah è tranquillo dove siamo sapevo che non ce l'avrebbe delusa è inutile è sempre inimitabile io quel libro lì lo adoro ma non vi preoccupate perché ne ho trovati altri allora c'è da dire una cosa questa autrice ha fatto anche altre cose che mi sono state dette essere anche molto buone Questo romanzo che sto leggendo Fa parte di una primissima saga Dei primi libri Tra i primi 7-10 libri che ha scritto E ne ho individuati altri Prima che le crescessero tutte 10 le dite Esattamente Quando era ancora Non del tutto capace Di intendere e di volere I suoi genitori non chiudevano bene la porta Con la macchina da scrivere E lei gattonava dentro e schiacciava Dicevano ti ho detto sempre di chiudere la porta Carla che quella lì va dentro Scrive delle radio orribili E poi le manda la posta pneumatica Beh comunque ho scoperto Che ci sono molti altri libri Aberranti così E li sto pian pianino leggendo Por vu Por vu Oh ragazzi io devo dirvi Che sono stato a un passo Ero in libreria a comprare dei libri Se vuoi andare a comprare in libreria Ero in libreria Punto Giusto? Tu sei in libreria tutti i giorni praticamente Praticamente sì C'è chi non ne potrà più Amica amica Eh? Se capisci cosa intendo Amica amica È un po' come quando Fantozzi torna a casa E trova il pane dappertutto No? E cominciò a farci delle idee Esatto Oggi Fantozzi è mancato Non ve l'ho fatto Non me l'avete chiesto Non ve l'ho fatto Eh vabbè Ci siamo presi una pausa Perché poi troppa emozione Ma no poi troppo Poi diventa noioso Ci si abituano Comunque stavo dicendo Che mi sono trovato Il secondo della trilogia Di Rachel Cask E mi son detto Sai che mi verrebbe Andare a leggere il secondo di Rachel Cask Non lo fare Ma è una voglia Curiosità ovviamente Ma è proprio Sapete quel vuoto Che mi si è ricreato dentro E ho bisogno di riempirlo di nuovo Come quando io sono stato all'ospedale Ero gravissimo E quando sono uscito Adesso ne ho così tanta nostalgia È la stessa cosa Della morfina Come stavo bene Beh raccontaci il tuo viaggio di oggi Dai Ok allora Premettiamo che io posso essere Un lettore distratto Un lettore distratto A cui piace farsi un sacco di domande E condividere Ammorbare voi Con queste domande Ma se sei distratto Non ti fai le domande Quello è un lettore di strada Facciamo che non sono un lettore distratto Sembra che ce l'ha sempre parata Ma non è così Facciamo che allora Non sono un lettore distratto Ma sono un acquirente distratto Non ai livelli da entrare in libreria E chiedere quanto costa La Stefania Auci Può riuscire Ma quasi Da prendere il secondo numero Della recente Il casco Esatto Ma neanche Da stare tutto il giorno In libreria A spulciare libri E leggere tutto Di tutto Di tutto Ok Un acquirente medio Mettiamo un po' distratto Colpa mia Allora Le cose sono andate così Entro in libreria E non ho troppo tempo Per acquistare Devo fare qualcosa Abbastanza al volo Quindi vado nella sezione novità E mi trovo questo libro Di Davide Longo Una rabbia semplice Un apostrofo a rabbia semplice Una rabbia Una rabbia saudita semplice Cortese Mentre al tavolo 5 Vale che Baricco Ne abbia parlato benissimo Di questo libro Bravo Bravissimo Comunque si è preparato Infatti in seconda C'è una Presentazione Di Alessandro Baricco Sapete come la penso Su queste cose Non l'avrà neanche scritta lui No va nello specifico È stato lui per forza Poi è estremamente Arzigogolato Ha messo dentro il mare L'acqua e le maree Però dice che i due protagonisti Quei due sono la risposta del nord A commissario Montalbano Pa Buttala lì Madonna Comunque Avevo visto la pubblicità Di questo libro Sul quotidiano Mi sono detto Va bene Prendiamolo Ho guardato così velocemente La copertina La copertina Mi piaceva molto Solito discorso Lo compriamo Solito discorso Il libro Non è male È un noir Ci sono delle belle battute Che uno si ricorda Allora Devo dire che in certi punti C'è un punto di vista Decisamente ballerino Quindi dal punto di vista stilistico C'è qualche scivolone Oppure un punto di vista limitato Che a un certo punto Diventa un narratore onnisciente Vi faccio un piccolo esempio L'investigatore Sulle prove Le analisi Confermano che c'è questa Merda di mosca E lui dice Quindi abbiamo molta merda di mosca Ripete a se stesso Fissando una sioma Che potrebbe spiegargli tante cose Sempre sapesse cos'è una sioma Ma come? Com'è possibile che lo faccia? Esatto Però Tutto sommato Però sono cose Che ormai abbiamo visto Che le conosciamo Che voi Ormai le sapete riconoscere Le riconosciamo anche noi Vogliamo star lì a crocifiggere Un autore Perché Bravissimo Alla fine Insomma Non so Io non sono di questo avviso Cioè Voglio dire Santo Dio Ma porca miseria Ma l'avrai studiato Un piccolo corso Per corrispondenza di scrittura Che ti insegna a gestire Un punto di vista Ma probabilmente lo sa Ma non se ne frega niente Dai Lui te ne frega Il soldo è lo stesso Se è così Va bene Se è così In realtà vostra Va bene Ma secondo me non è così Ci abbiamo fatto il callo Andiamo avanti Anche perché noi Aspiranti autori Sicuramente In nostre prime opere Ma anche più in là Sicuramente saranno piene Di errori stilistici Che noi ancora Non abbiamo Quindi rientriamo Un po' tutti In questo caldorone La storia Cosa stai dicendo Andrea Ha un contratto in mano Con le Naudi Ragazzi Ha un contratto in mano Te lo dico io Ha un contratto in mano Con le Naudi Ho detto che basta Adesso i Naudi Non lo leggo più Perché questo è tipo Il quinto libro Che recensisco È lontano A quello che ha dato Due euro Esatto Finiamola lì Finiamola lì Non parliamo di più Quindi la storia è bella Il problema è che Volete una raccomandazione Del caro vecchio Andrea Lauro Partite dal primo Perché in tutto questo Qual è il problema Che io per l'emmesima volta Sono partito più avanti Di dove dovevo partire Vi ricordate Nella puntata di Ilaria Tutti Una piccola clip Che ce lo ricorda Il test che volevo partire io oggi È Ninfa dormiente Di Ilaria Tutti Addirittura la clip Cioè io mettevo di solito Le puntate di iscrizione E tu metti addirittura le clip Che egocentrico Sempre peggio Per farmi capire Che anche lì ero partito Con il seguito Con Ninfa dormiente E in realtà Mi ero accorto Che i personaggi Erano già partiti Prima con la loro Progressione orizzontale C'è una serialità La riconosci Oltre all'episodio In progressione verticale C'è una progressione orizzontale Però avevo anche detto Che in realtà Questa cosa qua La sentivo poco Perché comunque I personaggi Si spiegavano abbastanza bene Ed erano molto funzionali Alla storia Ciao Ilaria Invece Il problema qua È che alcuni personaggi Non sono completamente funzionali Alla storia C'è una trama orizzontale Che va avanti Al di là dell'episodio E soprattutto Non viene spiegato Fino in fondo Il loro ruolo Il lettore distratto Si trova in una serie di problematiche Di comprensione Del testo Di questi personaggi Il problema sarebbe stato Assolutamente risolto Se qualcuno Avesse segnalato Che il libro Era il terzo di una serie Che doveva essere seguita tutta Cosa che non è stata fatta Così non l'avresti comprato però Eh Quindi arriviamo alle possibilità Piccolo inganno Piccolo ingannetto E quindi Rimani Appeso Con queste storie Che continuano Che arrivano Che stanno andando avanti Ma tu Sei lì un attimo Come Manolo Nervi tesi Muscolo e lo spasimo Stessa cosa E il problema qual è? Che la sensazione Per il lettore Disattento Come me È quella di essere arrivati Tardi a una festa E tu arrivi dentro così Eh ragazzi Ho portato da bere O tutti a limonare O tutti che guardano la tv E tu dici Ma ragazzi Alla festa Sei arrivato tardi Ai 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 Imbarazzanti Brutta sensazione Quindi Orribile Con questo cosa voglio dire Non lo so Però infatti Mi cosano Mi cosano Torniamo all'inizio Ammettiamo che io sia un lettore Disattento Per carità Ma analizziamo le cose Andiamoci piano Come solo tu sai fare Vai Grazie Grazie Copertina Non c'è scritto nulla Su questa serialità Abbastanza dura Spiccata Seconda di copertina Posteriori L'ho riletta E mi son detto Si vabbè Parla di questo protagonista Parla della vicenda Ma non dice che Bisogna leggere il primo Alessandro Baricco In seconda Non lo dice Ma non l'ha scritta lui Quindi forse Non è colpa sua Ragazzi Che figure mi fate fare Mi starà dicendo Esatto Ciao Alessandro Ciao Alessandro Ciao Alex Mamma mia Siamo segnati ragazzi Non ci vorrà mai nessuno L'Enaudi È cancellato Esatto Ma Comunque Che è la principale Concorrente degli Enaudi Vogliamo Vogliamo Ci candidiamo Vai Vai Scusa Dice qualcosa Qua in fondo Dicendo che Effettivamente È una serie Però io non avevo avuto modo Comprando così Di getto Di controllare Né Goodreads Né Wikipedia E allora mi sono venute in mente Quattro possibili Ipotesi Per cui Possono aver fatto Una cosa del genere Cioè Non scrivere Una rabbia semplice Numero 3 A meno uno sa Che quello è il terzo episodio Da leggere Non il primo Anch'io ho qualche idea A proposito Vediamo se sono riuscito Allora Di solito le dici prima tu Vai Ok Allora L'ipotesi numero 1 È quella che io chiamo Garantista Nel senso E avete visto tutti Il coltello era già lì E lui ci è caduto sopra Perché è successo questo? Perché hanno sottostimato La serialità dura Di questo volume E quindi Non si sono resi conto Che effettivamente C'erano personaggi Che dovevano essere Non spiegati meglio Ma Introdotti prima E quindi uno doveva Si sono sbagliati Andiamo avanti Non ci avevo pensato Cazzo io Ah ma dovevo leggerlo Prima di mettere la copertina Ah cazzo Non l'ho letto L'ho mandato a tutte le librerie D'Italia E basta Mi è arrivata L'immel di baricco Ci ho messo la quarta E sono del dato Questa era quella garantista Allora poi abbiamo la seconda Ipotesi numero 2 Di Andrea Lauro Che è quella idealista Ovvero Loro si aspettano Che qualsiasi lettore Che piomba dentro la libreria Sia pienamente conscio Di quello che andrà a comprare Quindi Si legge Goodreads Wikipedia La classifica Eccetera eccetera E sa per file per segno Vita, morte e miracoli Dell'autore E quindi Si aspetta che sia un lettore Integerrimo E soprattutto Estremamente preparato Direi integralista Più che integerrimo Anche questa Mi fa stridere le natiche Arriviamo alla numero 3 Sentiamola Molto piano Sai Molto Con molta docilezza Come solo tu sai fare E ci inventiamo pure le parole Andrea Lauro Penna rossa Cancellato L'ipotesi L'ipotesi numero 3 È quella che io chiamo Il marketing dei noantri Cioè Loro sanno effettivamente Che avrebbero dovuto indicarlo Ma dicono Contavamo sul fatto Che leggendo il terzo Tutti i lettori Al netto Di quelli che sono rimasti Un po' incazzati Vadano a prendersi Tutta la trilogia Perché sono di buon cuore Marketing dei noantri La quarta è quella Che si spiega già da sé Con il titolo E sicuramente Non è questo il caso Il marketing capitalista Senza cuore né anima Ovvero Loro dicono Sapete che c'è Noi vogliamo che comprino Il terzo Non il primo Non il secondo Ma che ci comprino il terzo Quindi Che si fottano i lettori E questo è il libro Questa sarebbe anche facile Da verificare Dove è andato? Dove è andato? Laura dove sei andato? C'è Naudi che busciava Esatto Con un ammazzo dal baseball Sarebbe facile Verificare questa ipotesi Se gli altri due Sono stati pubblicati Dallo stesso autore Con lo stesso marketing forte Cioè spinto Magari con la Sopraccoperta La come si chiama Di baricco E cose così Se invece non si sono cagati nessuno È probabile che questa sia Quella buona Io ho una sesta ipotesi Sesta ma non è la quinta Ne abbiamo detto quattro Quattro Quinta la tua E sesta la mia Ma io non la mia La mia non l'ho detta però La quinta o sesta ipotesi È che baricco Non abbia mai letto questo libro E abbiamo detto così Ma sì Mi faccio una recensione Dico che è bravo Questo personaggio seriale Non è alla Camilleri Che c'è uno sviluppo orizzontale Per carità Però non così forte Pregnante Ogni libro è a sé stante Te lo puoi leggere da solo Invece in questo caso Non è così Giusto Andrea? Sempre facendo il raffronto Con la Tutti Come dicevo prima Anche lì c'è una progressione Forte Orizzontale Però viene spiegata In tutto e per tutto Ed è tutto combinato Qua invece alcune volte Certi personaggi Sembrano introdotti Un po' in modo Pretestuoso Il problema secondo me Non è dell'autore È di chi ha Creato questa serialità Senza specificare Che dovesse essere Un 1 Un 2 E un 3 E qui c'è la mia Sesta ipotesi Avete mai sentito Parlare del fatto Che ne so Che in Audi Esca con una trilogia Avete mai sentito Parlare di una Saga poliziesca Cosa significa? Probabilmente Una casitrice Grossa Che fa questo tipo Di libri Non ha piacere Che si sappia Che è una trilogia Che è una saga No? Che sono invece cose Della speculative fiction E quindi Non lo dicono Quello è successo Con Rachel Kaskin In effetti non c'è scritto Prima, seconda, terza Non lo dicono Interessante questa ipotesi Sono figo eh Sono sempre più figo ragazzi Per quello che sto in mezzo al video Quando è che fai il corso Nestler Che mi scrivo subito Ah allora lo faccio domani Che mi frega Bene ragazzi Beh carino Interessante questa cosa Diteci cosa ne pensate voi Quali delle ipotesi Vi sembrano più plausibili Dai che metteremo nomi e cognomi Non mi preoccupate Ma non è che se poi te lo dico Dopo tu magari vai a Oh Gesù Dì Dio Bene Anche per oggi era tutto allora Bravi ragazzi Mi raccomando eh Ripete responsabilmente Oggi lo farei danciano E come la sigla dei Simpson Cambia sempre Sai cos'è? È che dopo che leggi le cose che leggi tu Lauro non se la sente più di dire Leggete responsabilmente Si sente ipocrita Ma io lo dico Leggete responsabilmente Mi raccomando ragazzi Ciao a tutti Ciao 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 a tutti Ciao a tutti